...di prevenzione e intervento sulle strade e autostrade della provincia. Grazie per la professionalità negli interventi di soccorso sui sinistri per l'attività accertativa, le specificità investigative. Grazie alla Polizia delle Comunicazioni per la puntualità della loro azione, l'eccellenza dei risultati, quattro onde, delle sofferenze e delle dotazioni, delle sofferenze che hanno spalmato sull'intera realtà degli uffici e da parte della provincia, che in questa annualità hanno raggiunto la loro lacquia, ma tutto ciò non incide nei risultati, che significativamente crescono, sia numericamente che quantitativamente. Il risultato di azione è tutta legata alla nostra attività. Un breve, brevissimo, spaccato di quella che è la realtà che più ci appartiene per quanto concerne gli operatori che lavorano in quest'ora. L'ufficio immigrazione, abbiamo avuto una vera esplosione nell'arco dell'anno dell'attività provvedimentale. Siamo riusciti a sostenere la pressione e gli insediamenti sul territorio sempre più crescenti. Siamo riusciti ad affrontarli con il rigore e l'attenzione che una fenomenologia di questo livello ci impone. E quindi un ringraziamento particolare a tutti gli operatori dell'ufficio immigrazione che si troveranno di fronte di più problematiche sempre più pressanti. Abbiamo la necessità di provvedere a gestire con tempestività i nuovi ingressi, l'ospitalità dovuta a chi sotto l'onda di un disagio di vita nei loro paesi di origine premia le nostre frontiere e viene distribuito anche sul nostro territorio. Un ringraziamento tempo al sindaco Picario Ferrari per il tipo di attenzione che ci ha riservato contribuendo a migliorare in maniera importante i prodotti di accoglienza di questa utenza che sempre più spinge sui nostri sportelli. Sono in atto un lavoro di risistemazione a ridosso dell'ufficio immigrazione per garantire un'accoglienza sempre migliore, non è sempre più dimensionata la sensibilità che questo territorio esprime in questa direzione sia al socialismo che ai loro interventi con il contributo della comunità regionale per migliorare anche l'attività dei nostri operatori. Abbiamo rivoluzionato gli orari di scontenderia di fatto garantiamo l'operatività 6 giorni alla settimana di Scrivigliano in titoli di soggiorno predisposti tutte le mattine, sabato compreso abbiamo ampliato l'attività operativa del nostro gruppo a livello di informazione tutti i pomeriggi dal lunedì alla giovedì l'abbiamo fatto nel salone principale perché ormai il numero degli utenti è cresciuto a dismisura e quindi per girarli nella scontenderia che era stata originariamente pensata diventava un grosso sacrificio. l'attività come dicevo regolosa e attenta genera contenziosi importanti contenziosi che parimenti gestiamo con assoluta puntualità e che danno il senso di un ufficio che tiene malgrado le pressioni straordinarie a cui ne sono gettate che si inserisce in un circuito provinciale di gestione del fenomeno di migrazione che è quello che abbia pochi riscontri a livello nazionale.